Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video ASMR allora oggi come moltissimi mi avete richiesto per far vedere i miei regali di Natale non pensavo che interessasse così tanto però su Instagram me l'avete richiesto tra l'altro trovate sempre il link qua sotto spambino Natalizio e niente quindi ve li faccio vedere io avevo chiesto semplicemente un po' di sostegno per il cosplay e preferire dei cosplay che volevo fare eccetera eccetera però mi hanno regalato anche altre cose mi ha aspettato a me and allora prima di tutto vi faccio vedere questo che è regalo di mio fratello di mio fratello che sono delle cuffie bellissime di questa marca questa qua non so come si pronuncia non so qualcosa sia fatto sta che io a parte il cover che è bellissimo però io le cuffie le faccio fuori come se non ci usano domani le uso tantissimo quindi è anche un regalo molto utile per quanto mi riguarda e sono molto belle si sente molto bene hanno anche qua il tocino così posso anche utilizzarli quando si chiama qualcuno perché spesso mi capita io magari sto ascoltando la musica mentre torno da la scuola ad esempio mi chiamano quando ti stacca la cuffia e mettete a parlare e invece così è molto più comodo soprattutto soprattutto adesso che fa freddo poi 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 mi avrei sempre regalato mio fratello questo che è sempre della stessa marca di quel coso lì ed è tipo un antistress ma fa un suono bellissimo allora ve lo faccio prima vedere è fatto così e si girano a continuazione vedete è bellissimo è meglio della pallina guardate sentite e poi ho suono bellissimo ora quando sa caso la Sì e niente, potrei riproporlo molte volte, questo nei miei video quindi poi io mi sono fatto un autoregalo che avevo comprato, dire la verità, quando c'è stato il black friday però mi è arrivato adesso, anzi mi è arrivato col 24 che è questo è il monokuma un monokuma, il l'ursetto psicopatico di tangarumpa e niente è morbidoso e lo volevo, anzi mi serve anche per un cosplay e ho pensato di farlo però è un po' troppo complicato ho fatto il bat, il pipistrellino di Krul da Oerino Seraph ma questo è un po' difficile e niente, è dolcino a stasera dolcino a stasera dolcino a stasera e niente un dualismo molto piano piano perché i dualismi sono belli giustamente e niente quindi questo qua poi abbiamo fatto il papo natale segreto a scuola e io ho ricevuto questo è un set di Joker io adoro i Joker l'avevo messo anche uno di questi l'avevo messo anche nel video quello prima di Natale ovvero questo sono tutti dorati e niente è specialmente bellissimo tutti quanti questo è anche bellissimo ok poi poi mi hanno regalato come me non sa gioia allora per tutto questo che davvero non me lo sarei mai aspettato è un manga che tra l'altro mi hanno detto anche essere molto famoso ma io assolutamente non lo conoscevo si chiama IQ of Giants e sapete vi ho detto che io preferisco cioè preferisco come il linguaggio il linguaggio visivo preferisco il cinema però mi piace comunque leggere soprattutto i fumetti se ho la possibilità e soprattutto se ce li ho vi dici perché online comunque gli scan quelli da Kindle eccetera io li odio non li supporto questo era il mio pulso e e niente è stranissimo uno perché adesso vi farò vedere è fatto come un libro normale si apre ok cioè ha l'apertura a destra e anche i disegni sono particolari cioè non sono i classici disegni cioè totalmente diversi dai disegni che si trovano di solito nei manga o negli anime e non lo so sono molto curiosa di leggerlo in questa vacanza sicuramente lo farò stavo vedendo qua c'è una vignetta con una parola censurata sembra tipo un'iposca e invece no e niente qua dice vincitore selezionato nominato insomma ha vinto diversi premi il mondo si è spaccato in due è solo una bambina straordinariamente fragile e caparbia può impedirgli di spezzarsi definitivamente Bambula Tors è effettivamente cioè è Joe Kelly più Ken Nimura no no non lo conosco non so veramente niente su questo fumetto o forse a questo punto non so se si può definire no infatti no no è proprio un fumetto non è un manga è un fumetto ecco stavo leggendo adesso i autori però voglio comunque leggerlo ok Barbara Torson fa la quinta elementare ah ma è fantasy i giochi di ruolo non ha molti amici e ha un segreto ecco questo sono io a parte il segreto è la custodia del martello incantato di Koveleski il distruttore di giganti si 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 lo voglio leggere e poi appunto questo devo dire che ho rotto un po' le palle ogni volta che entravo in libreria e c'erano i manga e comunque le brie ce ne sono molto pochi oh Black Butler guarda quindi ho dato un po' di messaggi subliminali anche se non è una cosa indispensabile per me perchè comunque quando ho già letto e troppo mi piaceva troppo e vorrei leggere cartaceo e è Black Butler il primo volume ecco vedete che i fumetti cioè i fumetti i manga si aprono da sinistra esattamente come i libri in giappone e è in inglese e questo mi fa ancora più felice perchè io il poco che ho letto di questo manga l'ho letto in italiano e già c'è solo le traduzioni dal giapponese all'inglese in inglese all'italiano grazie e niente sono felicissima è molto più bello avere le cose cartacee secondo me è sordito ma non si tratta di fumetti e manga cioè questa pagina è tipo la vita la vita e ne ho parlato in qualche video fa di questo in particolare ho portato l'anime in un video cioè e questa è l'indice e niente i disegni sono bellissimi e poi in particolare io ho aperto tutto ciò e ho visto questo aspettate che è una una delle frose incone che è di Sebastian e anche lui e niente e poi questa in particolare questi episodi raccontati ci sono particolarmente affizionanti perché ci sono degli italiani della famiglia non mi ricordo come si chiami però una famiglia italiana a un certo punto dico mammogia perché mi fa molto ridere questa cossa ok niente l'attergico è stata abbastanza poi mi hanno regalato tre parrucche e una non ve la faccio vedere cioè non so se riesco a farvi vedere tutte fuori brevemente una testa ok poi mi chiedo perché le rompe e questa qua è tipo color lilla grigio ed è di un personaggio che si chiama Nao Tomori sempre da Charlotte che è un anime che potete vedere su Netflix o l'altro molto bello è un personaggio che a me piace tantissimo ma non avevo tanto voglia di cucirmi proprio il costume da sola infatti me l'hanno regalato e mi hanno regalato anche la parrucca ogni volta è un bel casino farvi vedere le parrucche nei video ASMR comunque questa qui tra l'altro lo è doppiamente perché anche i ciucci ci hanno i codini però è bellissima guardate i ciucci li hanno messi dentro e una retina qua devo un po' sistemare la Francia perché è un po' troppo lunga però per il resto è lei è lei è lei ok dopo metterò meglio a posto mi raccomando dei parrucche mettete sempre a posto non siate non siate come si dice pigri sulle parrucche perché è l'unico modo per tenerle a lungo piuttosto lasciate in giro i vostri cosplay ma le parrucche no vi faccio vedere le altre parrucche vi faccio vedere il cosplay allora non avevo voglia di farlo semplicemente la settimana si tratta dell'ennesima divisa scolastica stile giapponese e quindi me l'hanno regalata sicuramente ci farò qualche modifica però la base è da lei a lei e niente ho qualche filo sicuramente che bisogna sistemare anche qua però si sa che quando le cose si comprono online beh non è vero io trovo sempre filo qualche nei vestiti agarmali però ma c'ho ragione ed è proprio tipo tessuto camicia un po' pesante perchè tra l'altro sotto non ci va neanche la camicia ha proprio cioè è così che basta e poi c'è anche ah il giocco l'ho dimenticato va beh c'è anche l'aricchetto giallo solo che l'ho lasciato nell'armadio e la gonna che ragazzi è avevo paura non mi entrasse non mi va ma è veramente cortissima ho messo un bel elastro quindi mi va tranquillamente ma è cortissima infatti devo farci qualcosa devo metterci sotto qualcosa perché non si può a parte che io ricordo le gonne metto sempre i pantalocini sotto però così cioè provate la mia mano io ho le mani piccole poi quindi questo per quanto prima di far vedere le parrucche vi faccio vedere la sorpresina dei miei genitori allora io ho un pandora peraltro vi posso fare anche un video sul pandora perché sono tutte cose molto significative che ho qua sopra ce l'ho da parecchi anni e mi hanno regalato ovviamente dopo il mio primo anno passato con la pencetta di cui sono follemente innamorata mi hanno regalato il micino ecco eccolo qua ecco e niente sono stracontenta di avere questo cendolino charm si chiama charm si e niente come vi dicevo tutte le cose che ci sono sul pandora rappresentano me me quello che mi piace e sostanzialmente me tra l'altro spesso questi cendoli li uso anche con delle collane li tolgo dal bracciale li metto con le collane comunque adesso ricopro i bracciali sennò tintin con una continuazione stavo dicendo mi hanno regalato ah cosa mi hanno regalato perché l'ho ancora vista anch'io ed è molto ingombrante è la barrucca di Krul di cui ho fatto il cosplay la barrucca e di cui ho fatto anche il il pat il pipistrello e niente anche questa ha una barrucca di base che è lunghissima è di questo rosa molto naturale e i ciucci con i piccolini e questa la devo provare però vista così non sembra male l'ho anche toccata e non sembra per niente male saranno belle pesanti queste barrucchie con i ciucci sono soliti e poi questa che dice tutto e dice niente è una barrucca che è anche lei dei ciucci ma non vi dico che cos'è facciamo così vedo praticamente tutto ma questo cosplay non ve lo dico perché è un cosplay che mi fa usare un po' non per chissà quale motivo aspettate però che non 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 ho fatto io chiaramente ma mi piace un sacco il personaggio quindi quindi hanno voluto fare i ciucci però li ho angonciati quindi non sono qua mentre questa parte andava già bene la fisserò solo con un po' di lacca quanto dovrò metterla però è questa anzi ve la faccio vedere ok io adoro le parrucche corte sono troppo facile da pettinare sono una cosa bellissima non credo vi diga nulla di che però avete qualche indizi ve lo assicuro bene il cosplay abbiamo finito poi mi hanno regalato anche qui inaspettatamente alcune cosine di makeup sono tutte cosine di Kiko ecco e abbiamo anzitutto questo mascara che non apro perchè ne ho già un aperto questo qua che è sempre sto usando solo campioncini io tipo oraccia no dai questo è il The Shop della Eve Sullivan che mi hanno appunto regalato da Sifo campioncino solo che mi sta durando parecchio quindi questo questo invece è un campion mini mascara si chiama Easy della Kiko in questo modo in questo modo in questo modo poi mi hanno regalato questa palette si chiama smart cold eyeshadow palette adesso adesso posso buttare questo vedo che ve l'ho fatto vedere questo qua che ha dentro colori tutti quanti super glitterati sono proprio glitterati sono metallizzati sono glitterati sono glitterati sono glitterati sono glitterati volevo farvi vedere qualche colore allora mi piacciono tantissimo tutti quanti questo qua è stupendo perchè ha tipo dei riflessi questi neri sembrano quali ma uno ha dei riflessi grigi questo invece ha proprio riflessi brillantini c'è il vetro con la plastichina aspettate che lo togliamo allora vediamo un attimo il nero qua metto di fianco l'altro vedete sono proprio glitterosi questi non sono proprio pieni pieni però hanno un sacco di brillantini poi abbiamo questo che è lo champagne tra l'altro l'avevo già provato questa è molto più luminosa forse così siete meglio lo faccio un po' più grande poi l'oro voglio provarlo sì sono proprio glitter vi faccio vedere ad esempio questo oro che ho usato oggi per quello ce l'ho qua questo cosa intendo perché sono glitter cioè non è specificato ma secondo me lo sono questo è un oro un pretto vedete quanto sono invece proprio glitter questo è semplicemente metallico è bellissimo questo è della Naked però questi sono più glitterosi più aggiungi più escono i glitter questi colori sono stupendi vorrei provare questo che è tipo un marrone con dei glitter lilla si non so se si vedono non pensavo di arrivare mai a dire questa cosa questa frase molto da più di curo però non vedo molto purtroppo perché ho la luce sparaflesciata ma sono molto carini e poi mi hanno regalato anche un'altra paletta della sparkling holiday qui della Kiko così ha dei colori bellissimi ha dei colori bellissimi che 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 Comunque vi volevo far vedere qualche matto in questo caso perché negli altri sono tutti glitterati Allora vediamo tutti i dashboards Vediamo uno di questi due Che poi hanno anche i nomi, io adoro quando ho avuto i nomi agli infatti Allora Every Day e Be Yourself Questo se avete l'incarnato scuro va molto bene come colore di transizione Io userei questi Love It e Resilience Questo sembra un nero ma è un grigio, dire la verità Nero è molto diverso E c'è questo che si chiama Womanish Che è tipo uguale a un ombretto che ho di nabla E non avete le palette che ho avuto di più Infatti è tutta imponerata Ma avete notato bene tutto sommato Più o meno è questa che è la Dreamy Ed è uguale Questo ombretto Womanish è molto simile a Vanitas Questo e questo qua Mi trovo molto simili Forse questo è un po' più dorato, questo è un po' più rosa E niente con questo video è tutto Spero vi sia piaciuto Io vi auguro un felice, un sereno Soprattutto 2019 E questa è la mia carta che ha fatto casino E niente Spero che abbiate passato delle buone feste Io tutto bene E niente Lo vado a mettere a posto Ciao Ciao